È la costante ricerca di nuove forme, spazi, temi e modi che ha permesso al Festival Scatola Sonora di Alessandria, in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi, ad aggiudicarsi un posto prezioso tra le manifestazioni internazionali della provincia e quest'anno compie 26 anni. Per festeggiare il suo traguardo, il programma 2023 di Scatola Sonora ruoterà non solo tra le varie epoche d'oro della musica antica e contemporanea, ma soprattutto intorno ad alcuni temi sociali di grande attualità, come lo sfruttamento minorile, la dimensione della donna con i suoi desideri e relazioni interpersonali, la dislessia e le difficoltà che ha causato nel secolo scorso. Per la 26esima volta il Conservatorio regala ad Alessandria e al territorio Scatola Sonora. Non è una scatola chiusa, è una scatola aperta di emozioni, di gioia, di cultura, di riferimenti diversi nel tempo, diversi nel genere musicale, ma accompagnati da questa grande volontà di legare musica, cultura e rapporto con la città. E dunque, grazie ancora una volta a Luca Valentino e a tutto lo staff del Conservatorio che si mette a disposizione per le innovazioni, ci sarà il piccolo spazzacamino come filo conduttore di questo lungo percorso da maggio a dicembre, ma tanti altri avvenimenti che dimostrano come Alessandria e il suo conservatorio sono ormai qualcosa di assolutamente unito. Tra gli appuntamenti musicali del festival che inizierà il prossimo lunedì, sul palco salirà la melodia di The Little Sweep di Benjamin Britten, che costudisce al suo interno la grande importanza del fare insieme un'opera. Poi sarà il turno di E la Gorgia di Viencruda, un oratorio profano che riporterà il pubblico indietro nel tempo, dal Medioevo al Settecento, e Il Gioco del Quadriglio di Antonio Caldara, incentrato sulla figura della donna. Anche il jazz sarà uno dei protagonisti del festival, con Lo Spazio Tesi, un omaggio a Jean-Lie, una delle grandi voci dimenticate di questo genere musicale. A chiudere, scatola sonora a dicembre sarà l'Armida di Rossini, in occasione del centenario della nascita di Maria Callas, inconfondibile voce della lirica mondiale ricordata ancora oggi per la sua straordinaria musicalità.